Benvenuto in News Mix Up, ricordati di iscriverti attivando la campanellina, lascia un bel like e commenta. Il tuo supporto è fondamentale per il nostro canale. Grazie. L'affermata conduttrice Enrica Bonaccorti non rappresenta soltanto un'icona dello spettacolo italiano, bensì una donna con un passato doloroso. Durante un'apparizione in un programma televisivo, ha svelato dettagli strazianti della sua vita, confessando di essere stata vittima di abusi antisessuali all'età di otto anni. Dai nove ai diciannove anni, ho vissuto ulteriori episodi simili, ha rivelato con una disarmante sincerità. Questi eventi l'hanno segnata, ma non spezzata, anche se il dolore nelle sue parole è palpabile. Un aspetto scioccante delle sue rivelazioni è che gli abusatori erano individui vicini alla sua famiglia. Nomi che mai avremmo potuto sospettare. Questo svela la cruda verità riguardante quante vittime siano state prese di mira da coloro nei quali avevano fiducia. Numerose celebrità hanno condiviso storie analoghe, da Stefania Sandrelli a Claudia Cardinale. Queste testimonianze hanno evidenziato la cruda realtà che molte donne hanno sofferto in silenzio. La cultura maschilista, solita biasimare le vittime, è ora sotto attacco. Il coraggio di Enrica nel condividere la sua storia sottolinea quanto sia vitale continuare a discutere, educare e sensibilizzare su tali problematiche. Oggi ringraziamo Enrica per la sua forza e resilienza, auspicando che chiunque abbia sofferto trovi la forza di far sentire la propria voce e intraprendere un percorso di guarigione. Grazie per la visione e al prossimo video. Ehi, non mancare!